Abbiamo prima di tutto espresso al Presidente della Repubblica tutta la nostra preoccupazione sulla escalation siriana e crediamo che si debba fare la massima chiarezza sulla natura dell'attacco di Duma ma allo stesso tempo pensiamo che qualsiasi tipo di uso di armi chimiche sia intollerabile. Abbiamo ribadito, ribadisco qui, che la nostra intenzione al governo di questo Paese è restare al fianco dei nostri alleati e consigliarli in un'ottica di pace prima di tutto. E' chiaro anche che la fine del conflitto in Siria non sarà determinata dalle vittorie militari ma dalla diplomazia, da una soluzione politica che, come candidato Presidente del Consiglio dei Ministri di questo Paese, ho intenzione di sostenere appieno nell'interesse delle istituzioni italiane ed europee. Qui, dal primo giro di consultazioni, avevamo proposto e abbiamo proposto una soluzione a due forze politiche. La Lega di Matteo Salvini e il di Maurizio Martina, con la stesura di un contratto di governo sul modello tedesco che mettesse al centro i problemi degli italiani e le soluzioni ai loro problemi. Avevo anche detto che avrei incontrato volentieri i due segretari delle due forze politiche ma ci siamo reso conto in questa settimana che c'erano delle evoluzioni in corso sia all'interno del centrodestra e sia all'interno del Partito Democratico e quindi abbiamo ritenuto che i tempi non fossero ancora maturi per questo incontro. Allora abbiamo avviato un comitato scientifico per l'analisi dei programmi, diretto dal professor Giacinto della Cananea, che portasse avanti i lavori istruttori per la stesura di questo contratto di governo in attesa delle evoluzioni politiche all'interno delle varie forze a cui ci siamo rivolti. È chiaro che abbiamo aggiornato il Presidente sullo Stato delle interlocuzioni con queste forze. Devo dire che ho apprezzato l'apertura da parte di autorevoli esponenti del Partito Democratico ma è anche chiaro che in questo momento il Partito Democratico invece di fare dei passi avanti è fermo su delle posizioni che non aiutano e voglio dire chiaramente che nessuno può sentirsi esente dalla responsabilità di dare un governo a questo Paese, soprattutto chi ha progettato la legge elettorale grazie alla quale ci troviamo qui in questo Parlamento. Con la Lega invece devo dirvi, anzi è inutile dire, che c'è una sinergia istituzionale e c'è una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere operativo il Parlamento immediatamente con l'elezione dei Presidenti delle Camere, degli uffici di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni Speciali. C'è una sinergia anche tra i nostri gruppi all'interno degli uffici di Presidenza, ad esempio uno dei primi risultati è stato quello dell'istruttoria sui vitalizi e c'è una sinergia anche nei lavori della Commissione Speciale. È chiaro anche che però prendiamo atto oggi che ancora una volta Matteo Salvini e la Lega ci stiano proponendo lo schema del centrodestra. Un centrodestra che è un ostacolo al governo del cambiamento del Paese ma soprattutto è una coalizione che per noi è nata esclusivamente per adattarsi alla legge elettorale, cioè per raggiungere il fine di eleggere più collegioni nominali possibili. È una posizione che io non comprendo, non comprendo come Matteo Salvini e la Lega di fronte alla possibilità di far partire un governo del cambiamento si stia ostinando a previnare ancora questa coalizione di centrodestra. Tra l'altro una coalizione di centrodestra, l'avete visto anche voi oggi qui, che è tuttora divisa perché mentre il leader della Lega diceva di voler aprire al Movimento 5 Stelle a nome di tutto il centrodestra, dopo pochi minuti con una battutaccia nei nostri confronti Silvio Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra sta sperando in questo momento e stesse sperando in questo momento nel PD più che nel Movimento 5 Stelle, vista e considerata la battutaccia nei nostri confronti. Quindi è evidente che ancora una volta quel modello di centrodestra tanto decantato che doveva fare un passo avanti fa un passo indietro perché noi registriamo una chiusura all'ipotesi di un governo del cambiamento e su questo la Lega deve prendersi le sue responsabilità perché così facendo sta dicendo due cose o che vuole fare un governissimo che non ci vede assolutamente d'accordo oppure che vuole tornare al voto un'ipotesi che noi scongiuriamo ma di cui non abbiamo paura e su cui non avremo niente da perdere ma di queste due intenzioni se ne deve prendere la responsabilità di fronte a tutto il paese. Noi vediamo solo una soluzione per sbloccare questo stallo e questa soluzione investe Silvio Berlusconi. Dovrebbe fare un passo di lato, mettersi di lato e consentire la partenza di un governo del cambiamento altrimenti se ci si ostina sullo schema del centrodestra l'unica risposta nostra è quella che abbiamo sempre dato che non riteniamo assolutamente possibile un governo del Movimento 5 Stelle con Forza Italia. È una posizione che abbiamo espresso più volte alla Lega e non comprendiamo come sia possibile che ancora una volta a distanza di sette giorni si continui a chiedere questa apertura impossibile. Noi abbiamo dato due possibilità che girano intorno ad un contratto di governo serio con punti precisi, temi, tempi e procedure. Lavoreremo il più possibile per creare le condizioni per creare una maggioranza di governo ma con delle condizioni compatibili con i nostri valori e con la nostra storia. Grazie a tutti.